Contro la guerra, contro ogni guerra, in solidarietà di ogni popolo kurdo e l'esperienza esistenziale e politica del popolo kurdo. Quando la nazione è pronta, i segni sono cattivi. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, 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 a presto. A presto, a presto. Cingolato ho una piaccia di lasciami e non ci dovidi di bisogno e nella barattina e nel credito il peccionato la mano espalata Buon, buon Buon, buon 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Questa canzone parla di chi ha paura del presente, di chi ha paura del futuro, di chi ha paura delle diversità, di chi ha paura di chi non rientra negli schemi, di chi è incasellabile, di chi non sai come inquadrare, di chi non capisci. Questa canzone si intitola Fascista Grazie a tutti 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 Nel 1983, quando ancora non esistevano quei dannati oggetti, ci hanno resi tutti i cibernauti. Nel 1983 c'era una cosa... Complimenti. Nel 1983 l'ossessione nucleare generava paranoi come questa. 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 Nel breach nello nucleare generava spacesa. Nel nel piano un posto dove sta occhi di ragno tu, tu mi hai esganchato nel corretto del cielo nel piano un 123 tu, tu mi hai esganchato nel corretto del cielo Alla torte la torre Grazie a tutti.